È stato un momento, devo dire, incredibile perché Oscar e tutto l'entourage hanno la capacità di metterti a tuo agio in un modo che non puoi immaginare e quindi qui ho corso il rischio di scoprire qualcosa di nuovo su me stesso all'inizio e poi mi sono reso conto che effettivamente ho scoperto qualcosa di molto bello e quello che ho scoperto è che le persone che mi circondano, le cose che mi sono state dette, mi sono state di grande aiuto per riconoscermi quindi semplicemente ti senti in famiglia ed è un momento fantastico, quindi io sono riconoscente, mi sono riconosciuto e spero che questo sia soltanto l'inizio di un lungo percorso fatto di abbracci, caffè e momenti belli, veramente. Iago non è solo uno degli artisti emergenti sul panorama mondiale, Iago è un'opportunità per fare un viaggio nel mondo della responsabilità in questo incontro abbiamo capito come ogni pensiero, ogni emozione, ogni azione hanno il valore dell'opera d'arte può essere una parola, può essere una scultura e l'incontro con Iago è stato un viaggio proprio nel mondo della responsabilità ogni nostro piccolo gesto ci ha insegnato, seppur quotidiano, porta con sé un valore enorme per poter scolpire la nostra vita quella degli altri e quella del pianeta